L'Abruzzo è pronto a tingersi ancora ad azzurro. Dopo aver ospitato tra Chieti e Montesilvano la ripresa delle nazionali senior under 20 e under 18 dopo il lockdown, sarà Pescara questa volta a diventare la capitale italiana della palla a mano. Sarà infatti il pala Giovanni Paolo II ad ospitare il prossimo 8 novembre il match tra Italia e Norvegia, debutto casalingo della nazionale maschile nel gruppo 6 di qualificazione agli Euro 2022 di Ungheria e Slovacchia. La federazione ha individuato nell'impianto abruzzese il teatro per la prima sfida tra le muramiche degli azzurri guidati da Riccardo Trillini. A Pescara andrà in scena una sfida di grande fascino per l'Italia. La Norvegia infatti è due volte vice campione mondiale 2017-2019, oltre che in medaglia di bronzo agli europei 2020 dello scorso gennaio. L'impianto pescarese, che nel 2009 aveva ospitato le gare del torneo maschile di pallamano ai giochi del Mediterraneo, tornerà a fare da teatro per una gara della nazionale a distanza di 7 anni dal match disputato nell'ottobre 2013 contro la Romania. Intanto è ufficiale lo spostamento al 2021 dei campionati europei under 16 maschili e femminili di beach handball, originariamente in programma dal 24 al 27 settembre a Silvi Marina.